L'assessorato allo sviluppo economico e politiche sociali della Regione Calabria ha raggiunto un primo risultato in tema occupazionale. 818 sono i nuovi posti di lavoro ottenuti con il Fondo Unico Occupazione e Crescita, il FUOC, per un importo di oltre 27 milioni di euro. Somma che costituisce il 47% dei fondi disponibili dal FUOC, pari a 57 milioni e mezzo di euro. Sono i dati emersi dal monitoraggio congiunto tra lo staff del Dipartimento 7, Lavoro e Sviluppo Economico e il Management di Fincalabra. I numeri ufficiali sono registrati sulla piattaforma online della Finanziaria Regionale. Il FUOC ha letteralmente calamitato l'attenzione di diversi target di beneficiari, grazie all'eliminazione attraverso l'erogazione diretta da parte di Fincalabra dell'intermediazione bancaria e della relativa garanzia, dimostratasi nei fatti quasi sempre un ostacolo al perfezionamento delle pratiche di finanziamento e in definitiva all'occupazione o allo sviluppo. La novità assoluta in Calabria è proprio quella di finanziare imprese esistenti non bancabili. A questo si aggiungono i seminari operativi di informazione e di formazione che si sono tenuti e continuano a tenersi in comuni ed associazioni di categoria in tutte e cinque le province e la rete di sportelli di assistenza diretta alle domande.